Il sesto torneo Elio Serigli parla a cento laziale. Dopo la Roma anche il Frosinone si prende infatti la finalissima battendo il Perugia e ufficializzando un derby regionale che vedrà l'assegnazione del Memorial organizzato dall'Urbe Devere. In una gara che tarda ad infogarsi il primo squillo lo ostestano gli Umbri quando al settimo il corner di Mattioli per poco non sorprende Ferazzoli. La risposta a Ciociara è nel destro che Mattarelli prova al ventesimo mentre tre giri d'orologio più tardi è Ludovici a cercare il Jolly su punizione spedendo il suo tentativo alto sopra la traversa. Ripresa sicuramente più vivace della prima frazione. Dopo appena due minuti l'esterno basso di Trimani avrebbe nuovamente una buona occasione per colpire ma in mischia spara alto. Il vantaggio Frosinate è però solamente posticipato esattamente fino al nono. Gli Rillo punta l'area e una volta al suo interno finisce a terra nel contatto con Barbarossa per il direttore di gara. E calcio di rigore della battuta si occupa lo stesso numero 9 che dagli 11 metri è pressoché perfetto. mandando in frattumi la parità. Il gol rallenta ritmi ma nel finale il Perugia si avvicina a un gol che spedirebbe la gara e tiri dal dischetto. Sulla rimessa di Ludovici Ferazzoli va in presa costringendo il signor Desimone a comandare un calcio a due in area. Lunghi avrebbe così sul destro l'occasione per l'1-1 ma il suo calcio piazzato passa sì la barriera ma non le mani del numero 1 di Trimani. Negli ultimi minuti Braghini prova a chiudere i conti ma il suo diagonale che esce di un soffio non condiziona ulteriormente il punteggio. Vince infatti il Frosinone che in finale ritroverà quella Roma già affrontata nel girone una resa dei conti laziale per poter trionfare a via della Pisana.